Io sono Rossana Bernacchi e mi occupo di maglieria. I miei articoli sono pezzi unici, io parto dal filato, poi la tessitura e poi la realizzazione dei capi viene con l'applicazione di tessuti stampati tutti manualmente. È un lavoro molto lungo perché io parto dalla ricerca del filato, poi di fare la miscelazione dei filati per poi fare la tessitura manuale e poi tutto l'assemblaggio, quindi è un lavoro abbastanza lungo, molto complesso, molto delicato e di tempo. Sono capi unici e sono quasi capi da collezione perché non sono ripetibili su larga scala e ogni pezzo è un pezzo particolare che appunto sono come dei capi da collezione che rimangono per sempre. È un lavoro molto interessante, ci vuole molto tempo e pazienza per conoscere i filati, per poi imparare a lavorare a macchina e stampare. però è un lavoro che dà molta soddisfazione e per molti giovani potrebbe essere un'ottima attività.